Non puoi dire che Mario non è in grado di andare in nazionale, stiamo sforzando. Le cazzate che dicono Mario è uno che è spascia spogliatoio sono tutte cazzate. Quello che ti dà Mario in campo quando gli si accende la lampadina, e lo sappiamo, in nazionale, non te lo può dare nessuno. Ai mondiali ti porti un Mario, uno con le prime esperienze di Mario.